Sì, sono d'accordo con te, dovevamo assolutamente far vedere quello che veramente sappiamo fare, cioè intensità difensiva, in attacco ci passiamo la palla, se giochiamo così secondo me possiamo giocarcela come ho già detto diverse volte contro chiunque, a partire da Verona che è un roster come ben sappiamo costruito per vincere, però invece se giochiamo viceversa, un po' intoppati, in difesa poco aggressivi e in attacco poco fluidi possiamo perdere anche contro Casale, quindi sappiamo bene gli errori che abbiamo fatto, abbiamo lavorato in settimana, non abbiamo fatto niente di speciale, abbiamo giocato il nostro basket.